Avere le palle girate, un modo di dire che trae origine da un tipo di munizionamento da fucile realizzato artigianalmente dai soldati nella prima guerra mondiale e che aveva appunto le palle girate. Si estraeva dunque il proiettile, la palla quindi, dal suo bossolo e lo si rinseriva capovolto. La minor stabilità della traiettoria era compensata dal fatto che quando il proiettile colpiva il bersaglio lo feriva pesantemente provocando ferite difficilmente rimarginabili e poiché tali proiettili erano espressamente proibiti dalle convenzioni internazionali i soldati che li usavano erano considerati un po' folli appunto con le palle girate. Questa e altre curiosità in merito alla grande guerra al centro dell'incontro organizzato al teatro di Varese e che ha coinvolto 500 studenti provenienti dalle scuole superiori di tutta la provincia. Sul palco Michele D'Andrea, un passato alla dirigenza del Quirinale e una vita spesa a studiare la storia. D'Andrea ha creato lo standardo presidenziale, gli stemi dell'esercito, della marina, dei carabinieri, della polizia e oggi gira l'Italia per raccontare la guerra dal punto di vista dei soldati, di chi ha imparato a convivere con la morte negli occhi, di chi è riuscito a sopravvivere e di chi non ce l'ha fatta. La grande guerra fu anche vita, cioè vita trasportata altrove. Quest'umanità eterogenea scaraventata in trincea volle per forza, per aggrapparsi proprio alla speranza, ricreare quelle condizioni di vita che aveva in tempo di pace. Ed è per questo che dentro le trincee noi assistiamo a tutta una serie di comportamenti che ripropongono la vita normale, la vita reale. C'è lo sfigato, c'è il valoroso, ci sono le cattive stelle, le buone sorti messe in scena da questa umanità strana. Questo spettacolo vuole raccontare ciò che non è scritto nei libri, cioè il dietro le quinte, per capire esattamente che cosa c'era dentro l'uniforme, cioè il punto di vista del soldato che sta al fronte.